di vera e raccontare puntata numero 387 sono le nove del ventitere gennaio duemilaventitré dagli studio Aracne TV Palaperri in collegamento con noi Maria Antonetta Lepore professoressa e autrice vivere e raccontare il programma televisivo ideato da Giochino Onorati Augusto Zucchi in cui l'opera si racconta attraverso la voce del proprio autore e oggi con la professoressa Lepore parleremo del suo ultimo libro malattie neurodegenerative buongiorno professoressa buongiorno buongiorno a voi salve chiedere alla regia di mandare in sovraimpressione la pagina beautiful mind dedicata alla professoressa e chiedo invece alla nostra ospite di presentare la sua opera Allora purtroppo devo considerare che l'oggetto delle mie ricerche sta diventando sempre più un orizzonte sempre più aperto perché le malattie neurodegenerative ormai sono diventate tante ma soprattutto sono diventate delle malattie sociali delle malattie sociali perché sono procurano un danno a neuroni un danno progressivo ed è sono molto alla fine quasi totalmente invalidanti questo che cosa comporta? Comporta che i pazienti affetti da queste patologie che ne sono ormai tantissime e quelle più note e più facili tra virgolette anche se ancora molto molto difficili da diagnosticare sono la malattia il morbo di Parkinson e la malattia di Alzheimer sono diventate ormai quasi endemiche direi perché si pensa che ormai sono più di 30 milioni di soggetti affetti nel mondo della malattia di Alzheimer e oltre un milione e duecentomila e soltanto in Italia per quanto riguarda la malattia di Parkinson sono oltre 5 milioni in tutto il mondo e oltre cinquecentomila casi in Italia quindi da qui si vince che sono delle patologie gravi di difficile comprensione e totalmente difficili da diagnosticare e in quanto tale nonostante l'innovazione tecnologica faccia passi da gigante e cerchi in tutti i modi di trovare qualche via di uscita in questo modo è difficile anche trovare una cura e infatti le terapie sono molto molto difficili per tutte le malattie neurodegenerative ma fin quando si è a contatto con l'ictus o delle malattie cerebrovascolari diciamo è più facile sempre tra virgolette perché il termine facile per quanto riguarda le malattie neurodegenerative ma sempre preso con le pinze perché non non è possibile fare una diagnosi in così poco in breve tempo in modo tale da cercare se non proprio di prevenire ma almeno di limitare i danni che queste malattie comportano non solo ai soggetti affetti che ne sono affetti ma anche da eh da chi gli sta intorno dalle dei familiari che ehm perché sono eh pazienti molto difficili da da gestire infatti eh come eh viene dedotto dalla scala di Owen che è una scala che inquadra molto molto bene mh alla progressione della malattia perché si parla da per quanto riguarda l'alzheimer da una leggera mh confusione ehm ha ehm un progressivo danno neuronale che comporta la perdita di memoria soprattutto quella breve termine ehm la deambulazione che diventa sempre più difficoltosa non si riesce neanche più a scrivere in modo leggibile e il paziente ovviamente diventa anche sempre tra virgoletta sociale perché non può comunicare anche se più delle volte riesce a capire quello che gli sta intorno cosa anche si dice però purtroppo non avendo il difetto della parola che non può più comunicare si sente talmente a disagio che piano piano cade in depressione si isola e questo comporta ehm paradossalmente eh anche la morte perché uno che cade in depressione alla fine diventa allettato o nel nella cosa mh nella migliore situazione finisce sulla sedia a rotelle e quindi come tale mh anche se è soltanto una sensazione soggettiva si sente di peso e si sente anche escluso anche se magari non è così si sente escluso soprattutto dai familiari anche se non è così però purtroppo c'è questo stato d'animo che induce alla depressione quindi il soggetto comincia col passare del tempo con la progressione della malattia a non voler più mangiare e questo già di per sé comporta una una prognosi sfavorevole che inalitabilmente nell'arco massimo di cinque anni quindi un quinquennio nella migliore delle ipotesi porta alla morte allora queste sono malattie come dicevo mh poc'anzi che ehm recano un danno ai neuroni e soprattutto alla mh alla relazione intersinaptica dei neuroni cioè i neuroni sono delle cellule che hanno delle sinapsi terminali e ehm che fanno in modo che ci sia una trasmissione eh tra neurone e neurone ma quando eh c'è un danno eh ai neuroni che è provocato nel caso del morbo di Parkinson da una proteina che è l'alfa sinucleina che è una piccolissima proteina a catena lineare con un'unica catena lineare di soltanto cento quarantasei amminoacidi ma procura degli effetti eh molto molto dannosi perché eh quando questa eh proteina viene segreta in modo eccessivo si insinua nei corpi di Levi che sono degli ammassi neurofibrillari chiamati così da Ivan Levi che è stato il primo medico a scoprirli veramente era un biotecnologo più che medico e e e quindi ehm queste sia l'alfa sinucleina e i corpi di Levi fanno sì che procurano degli ammassi neurofibrillari insolubili e questo danneggia l'interazione intersinaptica quindi i neuroni piano piano essendo danneggiati vanno incontro a necrosi. Ora noi sappiamo eh da sempre che i neuroni le cellule neuronali sono quel tipo di cellule che non vengono riprodotte allora di conseguenza un danno neuronale per esempio molto più grave incide in molto meno tempo ehm per esempio un danno epatico perché le cellule epatiche si riproducono e si riproducono anche abbastanza in fretta mentre le cellule neuronali non riproducendosi un danno è chiaro che gli danno diventa inevitabilmente irreversibile e con un danno indiversibile si va incontro a una necrosi appunto e quindi poi di conseguenza alla morte. E invece cos'è la proteomica la eh scusi ho sbagliato si ripeto la domanda mi scusi eh cos'è la proteomica delle malattie neurodegenerative? Allora le malattie neurodegenerative sono determinate eh quasi sempre eh innanzitutto c'è da dire c'è da fare la premessa che ehm sono prima erano considerate soltanto malattie idiopatiche invece poi si è scoperto con l'innovazione tecnologica e con l'immaging e con la risonanza magnetica nucleare e la PET che è un attack è una tomografia ehm in cui vengono considerati positroni che sono della degli elementi degli elettroni che fanno sì da individuare un danno ehm molto più velocemente eh rispetto anche alla risonanza magnetica nucleare. Allora la proteomica non è nient'altro che un insieme di proteine che eh occupano eh un grande spazio all'interno della cellula all'interno di tutto l'organismo però soprattutto all'interno della cellula e sono proprio queste proteine come appunto l'arfasinucleoina e la proteina beta-amiloide nella nella malattia di Alzheimer eh che ehm essendo prodotti in eccessiva quantità in condizioni patologiche producono queste malattie neurodegenerative perché eh il il proteoma che è l'insieme di tutte le le proteine che ci sono all'interno dell'organismo e quindi all'interno della cellula deve essere anche in segreto in un in una certa quantità. Quando eh viene segreto in modo eccessivo causato da una mutazione nel gene nel caso dell'arfasinucleina è una mutazione eh in genere puntiforme ma alla fine può essere anche una direzione nella peggiore dei casi che si trova una mutazione del gene SYNC che si trova SYNC che si trova nel braccio lungo del cromosoma 21. Invece nel caso della proteina beta-amiloide eh che determina eh il cui eccesso determina ehm la malattia di Alzheimer ehm si trova la mutazione si trova sul braccio eh lungo del cromosoma 19. Allora questo che cosa comporta? Sono mutazioni che comportano eh appunto l'eccesso, l'eccessiva produzione di queste proteine e che causano appunto il danno ai neuroni. Allora il proteoma eh nel momento in cui tutte le proteine del interessate vengono a secrete in modo adeguato quindi quando non ci sono mutazioni allora diciamo che va tutto bene non vengono innescate eh queste malattie eh neurodegenerative soprattutto la malattia di Alzheimer e il morbo di Parkinson però quando purtroppo c'è una mutazione che però questo è un fatto genetico ecco perché alcune sono considerate ereditarie, alcune forme sono considerate ereditarie eh causano un eccesso, una difformazione, una sintesi eccessiva di queste proteine e causano la malattia di Alzheimer e la eh malattia di Parkinson. Ovviamente noi tutto questo eh l'abbiamo dedotto dall'immaging come dicevo prima di risonanza magnetica nucleare e PET ma anche dalla spettometria di massa che calcola che è eh viene considerata una forma una tecnica di elezione attuale per la ricerca di queste proteine eh che nel proteoma sono sintetizzate in modo eccessivo e allora la la spettometria di massa mh dà un rapporto di massa carica attraverso l'elettroforese bidimensionale del del tutte le proteine quindi dell'intero proteoma e fa sì da individuare il rapporto massa carica in eccesso perché le proteine hanno la carica positiva e la carica negativa. Allora quando c'è questo rapporto patologico massa carica di mh delle proteine nel nostro caso ripeto l'alfasinucleina oppure la proteina beta amiloide già questo indica che c'è eh un magari un che poi inizio non è perché noi diciamo inizio però purtroppo quando si si è scoperto eh l'eccesso di queste proteine già ormai eh la la malattia è già conclamata perché sono malattie molto molto difficile da diagnosticare come per esempio del proteoma fa parte anche la parchina che è una proteina che si individua ehm in eccesso nella malattia di Parkinson però il problema è sempre lo stesso che quando questi sono dei biomarker eccellenti per individuare queste proteine come un marker eccellente la eh l'apolipoproteina e soprattutto l'allele epsilon 4 dell'apoproteina però purtroppo quando noi evidenziamo l'eccesso di queste proteine già significa che è troppo tardi perché anche il il medico il neurologo mh più eh diciamo quello più più interessato alle malattie neurodegenerative anche lui ha difficoltà alla diagnosi perché all'inizio sembra un decadimento cognitivo fisiologico cioè tutti abbiamo avuto dei vuoti di memoria però dobbiamo considerare che se noi non ricordiamo dove siamo stati cosa abbiamo mangiato ieri o l'altro ieri è una cosa se invece non ricordiamo faccio un esempio banale che magari a lei sembra era banale però rende molto bene l'idea se noi dimentichiamo il nome del papa attuale è la cosa è più preoccupante perché capita a tutti eh in seguito allo stress perché ormai tutti siamo soggetti allo stress dalla mattina quando ci alziamo che dobbiamo andare di corsa per recarci al lavoro perché troviamo traffico e quant'altro e e lo stress quotidiano perché ormai è la vita che ci impone questo ritmo così rapido allora viene giustificato il fatto che magari non ci ricordiamo che cosa abbiamo fatto in un determinato momento nei giorni precedenti però che noi non sappiamo e non ci dimentichiamo il nome del papa che voglio dire la figura emblematica più importante al mondo già questo fa supporre che forse c'è qualcosa che non riguarda soltanto un decadimento fisiologico ehm ma qualcosa di più importante ovviamente non basta solo questo è ovvio io ho fatto un esempio che ripeto è banalissimo magari se vogliamo anche un po' sciocco però penso che sia un esempio che renda perfettamente l'idea come per esempio rende perfettamente l'idea eh le fasi della malattia di alzheimer che in un primo momento abbiamo soltanto magari una leggera confusione ehm un po' magari soltanto un po' di mal di testa eh magari ehm una negligenza occasionale per esempio come ho fatto l'esempio prima che magari non ci ricordiamo ehm cosa abbiamo fatto nei giorni precedenti oppure per esempio un lieve deficit cognitivo invece già nella seconda fase questo deficit cognitivo diventa un po' più importante eh cominciamo eh si comincia ehm ad avere dei veri e propri vuoti di memoria però paradossalmente nella malattia di alzheimer ehm si ricorda l'infanzia c'è la memoria storica ma si perde piano piano e progressivamente quasi totalmente nella terza fase e l'ultima fase la memoria è recente addirittura si arriva al punto che non ci si ricorda nemmeno dei figli a quel punto però ormai diciamo che non non c'è più niente da fare ecco il classico dire buongiorno signora buongiorno signore al figlio già questo significa che la persona ehm sta ormai purtroppo diciamo sulla via del tramonto ma una necrosi dei neuroni ehm molto molto avanzata e questo per quanto riguarda l'alzheimer per quanto riguarda il Parkinson ehm la la cosa più evidente eh è il sintomo più evidente è il tremore che inizialmente è unilaterale ma eh piano piano diventa bilaterale diventa sempre più ehm importante e ehm la cosa che deve deve essere ehm significativa è significativa è il fatto che nel sonno non si ha tremore poi eh c'è ehm diciamo inevitabilmente progressivamente quasi la perdita totale di sonno in effetti eh i malati di alzheimer si alzano eh sempre durante la notte perché mh anche perché purtroppo è interessato l'ippocampo e l'ippocampo è la sede centrale dell'apprendimento della memoria e anche della deambulazione quindi siccome infatti con la risonanza magnetica con l'immaging della risonanza magnetica della PET l'ippocampo è ehm viene è una zona eh completamente ehm scura eh e da lì si evince che eh siamo in una situazione abbastanza preoccupante e questo purtroppo eh è ehm è determinato da cause molteplici in effetti eh le cause e la progressione della malattia neurodegenerativa non sono né chiare e né comprese e i trattamenti terapeutici ehm sono non dico che sono palliativi ma semplicemente riescono a a limitare la sofferenza dovuta a queste patologie come per esempio gli anticolinergici per quanto riguarda l'alzheimer e eh l'evodopa per quanto riguarda il Parkinson però per il Parkinson si è pensato anche una stimolazione eh cerebrale profonda nel senso che ehm forte un forse un forte però ovviamente questo è tutto in itinere ci mancherebbe altro un forte scussone neurologico potrebbe diciamo far tornare quelle interazioni eh tra le sinapsi neuronali eh per per avere ehm una progressione meno rapida della malattia non per non è terapeutico perché purtroppo non ci sono farmaci per curare queste malattie però si cerca eh le nuove tecnologie cercano di ehm di rallentare almeno il percorso eh di questa malattia di queste malattie che sono particolarmente invalidanti sotto tutti i punti di vista sia a livello personale che a livello familiare e quindi si cerca di eh trovare eh anche se ora non non è stato ancora possibile delle terapie risolutive per lo meno ripeto per per limitare i i danni neuronali di queste patologie e soprattutto per come alcune in alcuni soggetti soprattutto nelle forme ereditarie la progressione è abbastanza rapida eh a volte dire anche quasi violenta ehm si cerca di evitare la progressione così rapida di queste patologie anche se purtroppo adesso non ci siamo riusciti perché anche in levodopa che inizialmente sembrava l'elisir per quanto riguarda il morbo di Parkinson eh a lungo andare si è visto che procura eh più danni eh che benefici e quindi eh adesso siamo ancora eh come dire non vorrei dire in alto mare però stiamo cercando in tutti i modi di trovare delle dei meccanismi innovativi che potrebbero indurci almeno a un trattamento terapeutico oppure a cercare di prevenire i rischi anche se ehm possiamo stare molto attenti eh come prevenzione ehm è la dieta mediterranea perché è ricca di omega 3 e di antiossidanti e quindi eh con uno stile di vita adeguato eh cioè anche fare una passeggiata di mezz'ora al giorno eh fare per quanto sia possibile eh anche qualche esercizio fisico e una dieta alimentare adeguata senza eccesso di sale e scusi senza eccesso di sale eh ma eh dando eh particolare importanza appunto alla dieta mediterranea eh già questo potrebbe essere mh un segno di di stile di vita sano ed adeguato poi una cosa che mh ai ricercatori è sembrato un po' strana all'inizio che ehm la caffeina riduce notevolmente quasi addirittura il trenta per cento l'assunzione di caffeina proprio come caffè riduce quasi il trenta per cento il rischio della malattia soprattutto del Parkinson e paradossalmente anche il fumo di tabacco che è molto dannoso e sappiamo che cosa procura da sempre il fumo di tabacco in questo caso nelle malattie neurodegenerative funge eh leggermente da protettore certo non come la caffeina però funge leggermente da protettore anche se poi bisogna valutare i rischi e benefici cioè perché per avere un beneficio di un un semplice ritardo di una malattia neurodegenerativa poi uno si ha problemi oncologici allora arrivato a quel punto non so quale di due sia migliorativo o peggiorativo quindi bisogna sempre considerare tanti aspetti però ehm è stato considerato che appunto la caffeina ehm come gli antiossidanti eh sono ottimi addirittura per ridurre il rischio delle malattie eh neurodegenerative e soprattutto della malattia di Parkinson e anche eh anche se misura minore eh la malattia di Alzheimer poi un'altra proteina molto importante per quanto riguarda eh l'Alzheimer è la proteina tau sia nella forma solubile che nella forma fosforilata ed è una proteina che contribuisce al funzionamento del cervello però nel momento ehm quando nella substanzia grigia negra si si percepisce un accumulo di questa proteina già significa che siamo purtroppo in uno stato eh che cioè la la patologia non è più all'inizio ma significa che siamo già in uno stato avanzato questo è il problema reale delle malattie neurodegenerative che diciamo che non si possono prevenire al di là di come ho detto prima di fare uno stilo di vita sano e di uno stilo di vita anche alimentare sano soprattutto dando ehm maggiore attenzione alla dieta alimentare la dieta alimentare mediterranea però purtroppo più di questo non si può fare quando alla fine ed è sono molto difficili da diagnosticare quando poi alla fine sono stati diagnosticati già le malattie neurodegenerative già purtroppo sono in uno stato avanzato e quindi ehm si si cerca di limitare ripeto però non non ci siamo ancora riusciti io la ringrazio per essere stata con noi professoressa Lepore e io ringrazio anche i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di vivere e raccontare buona giornata grazie 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 di tutto grazie dell'invito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti